Come è un momento semplice? Beh, diciamo che non è un momento semplice, oltre perché esserci Cartman, Eric, con me in questo momento devo mostrare una cosa importante che è una cosa che mi è stata data da un amico che è il pletro del testino io non sapevo, non era conoscenza di questa cosa così importante ora che so che cos'è effettivamente il pletro del destino mi si è aperta una porta una porta molto importante della mia vita per cui oggi ti faccio vedere che cosa si è in grado di fare col pletro del destino che non sono virtuosismi ma consapevolezze interiori di musicalità e di comunicazione adesso metto in pericolo la mia vita perché se dovessi svelare esattamente dove sono in ogni caso la gente cercherà anche di raggiungere il posto nel quale io vivo per portarmi via questo dente di satana ieri sera quando ho visto... beh insomma, grazie Fran, grazie grazie a tutti